Salve a tutti ragazzi e bentornati su QA2 sul server Trash con Cat Quest. Nello scorso episodio ci siamo fatti un giro sfruttando la nostra capacità di camminare sulle acque come nostro signore e abbiamo scoperto che si può raggiungere questa città ora. Visto e considerato che per raggiungerla si deve camminare sull'acqua, immaginavo che il livello delle missioni in quest'area fosse quantomeno pari al livello delle missioni che abbiamo fatto ultimamente nello zamporto. E invece no. Scopro che nonostante sia un'area per forza di cose avanzata, qui in Bacheca abbiamo una missione a livello 1. Va bene. Accettiamola, vediamo come si evolve magari il primo pezzo della missione a livello 1 e poi ci sarà da combattere duramente, magari, non lo so. Leggiamo. Dunque, vi chiedete come si aprono, come si aprano, si dovrebbe dire, quei forzieri dorati? Sì, me lo chiedo da un bel po'. Fussì, andiamo. Contadini, come possiamo aprire i forzieri dorati? Vi serve una chiave dorata? L'abbiamo fatta cadere nella caverna a sud da qui. Forse di proposito, o forse no, lo sappiamo solo noi. Ma non mi piace, è molto olosco questo contadino. Sì, volevamo solo rendere la vita più difficile ai giocatori. A voi, tutto qui. E non chiamateci contadini, maleducati. Ma scusa, ma se siete contadini? Buona fortuna, amici, ne avrete bisogno. Ma questa è una missione di livello 1, giusto? Eh, infatti, è quello che pensavo io. Eh eh. Eh eh. Ok, è una finta missione di livello 1. E questa caverna è una finta caverna di livello 1. Non sappiamo dove sia la chiave, perciò è meglio ripulire la caverna prima. Caverna del fondatore, sconfiggimo. Porca puttana, che cosa sono questi? Ok, tempo di carica dell'attacco molto lento, ma fa un danno di... Ok, adesso mi è tutto più chiaro. Schippiamo i dialoghi. Ok, non pensavo fosse così difficile in quella caverna la situazione. Quindi dobbiamo... Dobbiamo dormire, perché sennò dobbiamo ripetere questo dialogo ad ogni nostra morte. E non mi va. Porco Giuda. Ma facciamo pochissimo danno. Pochissimo danno. No! Madonna! E' un disastro! E' un disastro! Allora, studiamo bene il nemico. Cioè, io credo che non ce la faremo, perché è veramente un delirio. Allora, la mappa per questa prima fase è sviluppata così, in verticale, quindi... Credo, credo, che non sia male avere... Per esempio, il fulmine è completamente inutile qui, adesso. E allora? Perfetto. Rallento almeno il loro attacco, così da permettermi di... Vai, attacca! No, perché l'ho preso in faccia? Però, noto che non gli faccio un cazzo di danno. Ma proprio niente, niente, niente. Ci provo un'ultima volta, ma non riesco a sconfiggere neanche quei... Quei piccoli forzieri all'inizio. Come posso cavarmela contro il boss? Ma c'è un forziere vero qui. Che magari contiene qualcosa che... Ok, bastone da mago, sono d'accordo. È una bella cosa, però... Ok. A questo punto potrei giocare d'astuzia. Il fulmine L2. Non gli fa... Si ricaricano! La loro vita si ricarica schifosamente. Ok, il fuoco gli fa abbastanza danno, vedo. Mamma mia! Forse ce la posso fare. Ci metterò tutto il gameplay? Ma ce la posso fare. Ok, me ne vado qui. Eh, devo giocare con l'aggro. È una tattica un po' da vigliacchi, ma... Ok, uno è andato. Non ci posso credere. Così. E bam! È veramente difficile. Però la chiave dorata mi interessa molto. No, no, no. Mi ha aggrato male. Ok, ok. Ok, è rimasto solo il boss? Sì. Bene così. Bene così. Signori, lo so che è molto lungo questo scontro e probabilmente vi sta tediando da morire, ma per me è importante portarlo a termine. Ok. Aspettate, eh. Cambio un attimo strategia. Armature. Andiamo a pomparci come merde l'attacco magico. Questo quanto ci dà? No, questo ce ne dà un po' di meno, ma ci dà un po'... Eh, questo forse è più indicato. Porco Giuda. Ok. No! No! Mamma mia, mamma mia che ansia poi! Perché basterebbe prendere un colpo per schiattare male. Sì, brucia, brucia, brucia. No! Ok, ok, ok. Boom! Sì! Oddio, ce ne sono altri due. Ma come cazzo si fa a fare una missione così bastarda, dico io? Ragazzi, è il gameplay più brutto del mondo. Però dai, se sblocchiamo le chiavi dorate possiamo fare tante cose. Possiamo... Lutta... Trovi una chiave dorata. Finalmente... Questo è un forziere vero? Ok, è un forziere vero. Mamma mia! Ci sono anche belle cose qua dentro. Ok. A questo punto, visto che abbiamo cose magiche di particolare potenza, più 44, e c'è un qualcosa che mi dia ancora più attacco magico. Questa. Mamma mia! Ora come ora sono un tank magico praticamente. Vado giù se mi sputano. Però... Ma quindi se entro qui... Oh! Niente. Ci sono... Pensavo fosse diversa dalle altre caverne, invece ci sono ancora loro. Vediamo un po' che ci dicono. L'abbiamo trovata. Wow, ottimo lavoro. Ok. Datecela. Non possiamo tenerla? Siete disposti a morire per lei? Eh... Allora preparatevi a combattere, amici. Ma perché? Perché dobbiamo combattere? Tra l'altro ci sono questi dialoghi senza niente. Stanno simulando uno scontro alla Sergio Leone, proprio. Stavamo scherzando. Non ci servono chiavi d'oro. Possiamo inserirle con i codici. Che coglioni. Gattastico lavoro, amici. Andate ad aprire tutti quei forzieri dorati, amici. Arrivederci. Gentle Bros. Ah, ma quindi questo è il villaggio... È il villaggio degli sviluppatori. Questi non sono gatti. Sono gli sviluppatori che ci hanno trollato. No, vabbè. Ma è una cosa bellissima. Il villaggio degli sviluppatori. E vediamo che cosa ci dà... Questo nuovo giacchettino che ci hanno dato. Bella, madonna. Cioè, è abbastanza... No, è veramente una bomba in realtà. È potentissimo. Vediamo se è più potente di questo. Vabbè, però ci dà un botto di attacco magico. È bilanciatissimo. È davvero molto bilanciato. E allora, in testa, ci mettiamo questo. Dovremmo essere molto bilanciati, in realtà. Che arma abbiamo? Un bastone magico. Nel certo punto, forse, dovremmo prendere un'arma... Tipo questa. Che fa molto attacco fisico. Sì. Proviamo. Siamo... Dovremmo essere molto, molto bilanciati, in realtà. Salviamo pure, va. Ah, Gentilcittà. Giustamente, Gentle Bros. Ci sarei dovuto arrivare prima. Però, Gentle Town sarebbe stato molto più... Chiaro. Quindi, qui è dove tutto è cominciato per te. Ah, qui si è rotta la barca. Sei fortunato che sia passato al momento giusto. Percepisci una strana isola lontana verso sud. Ma forse... Questa. Eh sì. L'ho già trovata, in realtà. Che ci sono arrivato facendo il giro lungo dall'isola dei mostri. E quindi, non sono passato prima lì. Ok. Ora ci sono mostri dappertutto. La fine dei tempi. Vabbè, questa dice sempre la stessa cosa. Un po' fatalista. Vediamo questa bacheca. Il Re Leone. Accettiamo questa missione. Missione secondaria. Però... Grotta della caverna. Voglio andare a recuperare qualche caverna in cui... Magari c'è un forziere d'oro. Eccola lì. Eccola lì. Caverna del Bottino. Ed eccolo lì, il nostro forziere d'oro. Questa, tra l'altro, è una caverna veramente facile adesso, come adesso. Però il fatto di poter aprire il forziere d'oro mi spinge a ripetere le caverne. Per quanto questo possa essere magari un po' noioso dal punto di vista del gameplay, ma siamo su QDSS Trash, quindi qui si accetta un po' la noia. Oh! Elmo di Thorn. Di Thorn, scusatemi. Vediamo l'elmo di Thorn. Se è... Cazzuto quanto sembra. Beh, in realtà è un elmo... È un elmo molto bello. 21. Ci offre parecchio attacco in più. Forse è la... Eh sì, è la roba che ci dà più attacco fisico in assoluto. Se io puntassi tutto sull'attacco fisico adesso? Proviamo, stessimo facendo un po' di prove, un po' di build. Vediamo, qual è quello che ci dà più attacco fisico in assoluto? Ovviamente La vestaglietta del governatore. E abbiamo già l'arma che ci dà più attacco fisico. Perché qui... Perché qui giustamente noi vogliamo one-shotare, vogliamo andare belli spediti, no? Ok, signori, è arrivato il momento di riscuotere i nostri forzieri dorati. Venite qui. Ci abbiamo una... Una build... Bella, con due colpi vanno giù questi. Eccezionale. Beh, ma è anche... è anche normale che sia così. Avrebbero però potuto inserire una meccanica di tipo adattivo. Cioè, sono livello alto. Quando rientro nelle caverne, magari la caverna si adatta di un 20%. Risale un po' rispetto alla prima volta che ci sono entrato. Cose così. Bella miseria. Testa da leone. Quindi immagino che in queste caverne, a meno che non sia un caso, io vado a droppare. Ecco, infatti, più 32 attacco fisico. Però questa roba qui mi toglie vita. Cioè, faccio un danno porco, no? Però non ho molta difesa fisica. Perlomeno non ho molta vita in realtà. Però di sicuro faccio un male porco. Porca miseria. Salviamoci, va? Peccato che non mi piaccia molto, a livello estetico, questa armatura che ho messo. Quello che mi piace di più finora, proprio che metterei solo questo, è questo cappuccio qui. Mi fa impazzire, è bellissimo. Perché sostanzialmente mi piace la faccia del gatto, è molto simpatica e mi piace vederla. Ecco, rovine alfa. Niente, loro sono sensibili alla magia, punto e basta, proprio. Mamma mia, che mattanza. Che cos'è? Elmo scatola. Com'è elmo scatola? Ok. Allora non mi dà soltanto quel tipo di roba lì. Elmo scatola. Beh, non è così conveniente usare l'elmo scatola. Cioè, è veramente brutto poi, tra le altre cose. È sicuramente un pezzo di armatura speciale, ma... Non ne capisco l'utilità, a questo punto. Oh, caverna della fusesta. Beh, questa è già a livello 10, cioè qui avremo un bel da fare per... No, niente. Questa caverna, ora vi racconto una cosa che vi farà abbastanza valutare l'acquisto. Questa caverna qui per me è stata davvero un dito in culo sulla versione mobile. Difficile proprio, perché lì è tutto diverso. Ecco. Ci ho messo tipo 10 tentativi a farla, perché comunque continuavo a crepare. È difficile muoversi tappando sullo schermo dell'uomo. Uh, che bello. Cappello da gentiluomo. Forse il cappello da gentiluomo potrebbe essere indossato per pompa... Oh, la miseria. Quella miseria. Veramente. Beh, è un ottimo pezzo di equipaggiamento e praticamente quasi tutto quello che ho è inferiore nettamente al... Ah, però l'elmo scatola ci dà più 60 di scudo. E credo che sia il pezzo di armatura che offra più scudo in assoluto. Vabbè, questo è molto bello, questo cappello. E secondo me, visto che è da gentiluomo, lo possiamo abbinare al nostro gilet dei gentle bros. Questa per ora è l'arma che fa più danno. Sì, è l'arma che fa più danno fisico in assoluto, proprio. Tutte le altre hanno un danno fisico minore. Ok. Ok. Vediamo un po'. Caverne, caverne. Io vorrei vedere se c'è il simboletto dorato sulle caverne per visitarle di nuovo. Ma come faccio? È veramente piccola la mappa dall'alto. E molti si sono chiesti come mai non notassi lo zamporto a ovest. Ma non si vede. Cioè, è veramente piccolo. Non leggi il zamporto. Soprattutto perché era molto lontano da me. Ok. Pensavo fosse più... Più forte quel pesce, invece no. Allora, io direi di visitare questa... livello 50. Beh, facciamoci i cazzi nostri, invece va. Dovremmo andare allo zamporto a ovest. Ah, 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 fermi. Qui si può entrare, però. Qui ci sarà un gran bel da fare. Bella, così. Dopodiché abbiamo una missione in sospesa allo zamporto a ovest. Missione che abbiamo preso allo zamporto a ovest. È una missione in cui dobbiamo aiutare una famiglia di chef. Fratello e sorella. Che nonostante siano amichevolmente in guerra culinaria, vorrebbero riabbracciarsi. visto e considerato che il... la sorella, se non ricordo male, o il fratello, boh, non ricorda più di essere il fratello dell'altro. Ed è una cosa brutta. Oh, oh, oh. Corno oscuro. E questa spada mi pare che abbia... i colori del drago che dobbiamo andare ad affrontare in questo momento. Allora, se io prendessi la spada di ghiaccio, troverei che il corno oscuro pompa in maniera importante la magia. A meno attacco fisico, giustamente, del martellone d'acciaio che ho appena lasciato. Però, comunque, va alla pena. E adesso sto cominciando a prendere delle armi che... Ecco, qui ho preso la missione. Allo San Porto West. Rovine Epsilon, livello... 40. Potremmo provare. Potremmo provare. Ok, adesso si torna a combattere come un tempo. Sì, però, non è... Dicevo, non è così devastante. Forse perché abbiamo sbloccato le chiavi dorate e questo ci garantisce di... di avere addosso... armature e armi un po' cazzutelle. Ok. Me porca put... Ok, così. Due. Beccati pure questo. Merda. Oh là là, oh là là. Fermi, fermi tutti. Mi devo... Ok, ho tolto di mezzo quel rompipalle lì. Ci siamo finiti questa... questa caverna in maniera molto facile, molto easy. Madonna però, livello 17. Ebbè, giustamente questo è il livello 50. Da qui riesco a... a ottenere cose molto succulente. Però non c'era un forziere dorato. Peccato. Peccato. Che cos'è sta cosa? Sconosciuto. È la faccia di un uomo. Allora, non vorrei fare il sabacu della situazione perché non me lo potrei permettere normalmente, però una mezza intuizione ce l'ho avuta. Qualche episodio fa si parlava, leggendo quelle... questi epitaffi, poi se lo leggiamo anche questo, il sangue di drago furono l'unico motivo per cui i draghi vennero sconfitti. La guerra contro i draghi giunse al termine poco dopo. Ok. Si parlava di questi maestri che erano poi quelli che avevano infuso il sangue di drago nei gatti. Ecco, io credo che i maestri in realtà siano gli esseri umani e questa vecchia statua spaccata in mezzo all'acqua sembrerebbe un gigantesco monumento agli esseri umani. Magari mi sbaglio, eh, però... secondo me potrebbe essere. Isola del vecchio maestro. Vecchio maestro, quindi del vecchio essere umano, secondo la mia teoria. Potremmo andare a dare un'occhiata. E... 45. Potremmo... Potremmo provare. 70? No, non esiste. Il livello 70 non esiste. Vediamo che c'è scritto qui. Quest'isola era la sede dell'impero dei vecchi maestri ma ora restano solo rovine e tombe come ricordo di ciò che erano un tempo. E spiegherebbe anche perché qui in giro c'è anche quella testa lì. Allora, io direi di visitare l'isola del vecchio maestro nel nostro prossimo gameplay, ragazzi. Intanto salviamo e ci vediamo prossimamente. Allora, io direi di visitare l'isola del vecchio maestro